Un'iniziativa nata per promuovere salute e sicurezza sul lavoro e per non dimenticare chi ha perso la propria vita. Mille persone ogni anno, solo in Italia. Da questo input è nato il cicloviaggio nelle città italiane di Domenico Nese, vice sindaco del comune di Ogliastro del Cilento in Campania, che è partito lo scorso 28 aprile a bordo della sua bicicletta facendo tappa anche a Piacenza, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica. Partito da Ogliastro Cilento il 28 aprile, che è anche il mio comune, di cui è il piacere anche di amministrare, nella giornata mondiale della sicurezza sul lavoro e con 17 tappe, ormai quasi concluse perché siamo arrivati a Piacenza, la penultima tappa, si concluderà questo cicloviaggio a Milano il 17 maggio in piazza Castello Sforzisco. Sulla sicurezza sul lavoro si spendono sempre tante parole e forse nel nostro paese anche pochi fatti. Perché questa iniziativa è diversa? Questa iniziativa è diversa perché abbiamo pensato che bisognava comunicare e sensibilizzare le persone su questo tema importante della sicurezza sul lavoro attraverso dei sistemi nuovi, non convenzionali. Io ho scelto la bicicletta. Siamo riusciti a creare tante emozioni rispetto a questo cicloviaggio, tanta informazione, tanta comunicazione. Abbiamo trovato amministrazioni comunali molto sensibili come quella di Piacenza. Il progetto si è sviluppato in collaborazione con la Wiltec nazionale. Nese, oltre ad essere un amministratore pubblico, è anche un impiegato professionista nella prevenzione della sicurezza in un'azienda campana. Grazie.